Dal 2004, anno in cui ha fatto la comparsa per la prima volta in rete la piattaforma più conosciuta al mondo, ovvero Facebook, di acqua sotto i punti ne è passata veramente tanta. Oggi sono moltissime le piattaforme social che si contendono in tutto il mondo la popolarità e la frequentazione da parte del pubblico. Quelle che attualmente stanno destando particolare attenzione sono X, ovvero l'ex Twitter, e Threads, ovvero la nuova piattaforma promuonazione di Instagram e quindi di Meta. Quali sono le differenze tra le due? Si tratta di differenze abbastanza sostanziali. X è stata pensata ed ha mantenuto nel tempo questo profilo per poter produrre dei contenuti prevalentemente testuali e abbastanza ristretti sotto il profilo delle estensioni, i famosi 140 caratteri. Nasce dall'idea di creare una forte orizzontalità da parte di tutti i frequentatori della piattaforma e quindi dando la possibilità a tutti di dialogare tra sé senza che il ruolo sociale o la posizione possa in qualche maniera alterare questo tipo di rapporto. Basti pensare che su X è possibile parlare direttamente con il presidente degli Stati Uniti, giusto per fare un esempio. Ovviamente il tipo di popolarità è determinato anche dalla notorietà che la persona ha all'interno della piattaforma. È normale che persone note al grande pubblico possano avere un seguito e quindi un numero di follower maggiore. Mentre per chi non parte da questa condizione di vantaggio, ottenere le stesse performance può essere molto più difficile. Ricordiamoci che X, quindi Twitter, è stata la prima a lanciare gli hashtag, ovvero gli aggregatori per tema. Inoltre funziona molto per trend, quindi significa che coloro che vogliono in qualche maniera diventare popolari per il contenuto riportato e pubblicato, devono anche seguire quelli che sono i trend del momento. Ricordiamoci che X nasce per fare sì che si vengano a creare delle discussioni su argomenti e temi in prevalenza di stretta attualità. Non è al caso che comunque X è particolarmente frequentata da opinion leader e opinion maker riconosciuti come tali, proprio a livello di pubblico e di notorietà. Threads, in realtà, è una sorta di via di mezzo tra X e Instagram. Privilegia dei contenuti che sono visivi, quindi fotografici e video, nasce dall'idea di mettere in relazione il pubblico con i propri creator di riferimento, quindi persone che tendono ad utilizzare i social per creare contenuti di interesse, anche se di vario titolo. Ovviamente la differenza è anche anagrafica, perché Threads tende ad essere apprezzata da un pubblico più giovane, quindi millennial ma prevalentemente generazione Z, mentre X tende ad essere frequentata più da millennial e da generazione X fino ai baby boomer. Threads, inoltre, consente di creare delle sottocomunità all'interno del suo ombrello e quindi possono essere creati dei gruppi dove i contenuti possono essere condivisi all'interno di queste piccole circoscrizioni che si vengono a creare in maniera del tutto naturale. L'idea è quella di rendere molto più dinamica la produzione dei contenuti, per questo Threads è una via di mezzo tra Instagram e X e quindi consentire una pubblicazione frequente ed agevole da parte del pubblico. È difficile fare delle previsioni per capire quali saranno gli sviluppi futuri, perché ovviamente ogni volta che sono state fatte, anche in passato su altri social, molte di queste sono state poi puntualmente smentite dai fatti. Quello che però è da sottolineare è che sicuramente l'evoluzione dei due è stata pensata per cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze del pubblico del momento. X, ovviamente, per quelle che sono le sue caratteristiche peculiari, lo stesso per quanto riguarda Threads. Non a caso appunto è nata come un qualcosa di nuovo, proprio perché è stata individuata una tendenza e un'esigenza che grazie a questo tipo di tecnologia il pubblico può riuscire a soddisfare e trovare realmente un contenitore dove poter produrre contenuti e trovare realmente una piattaforma di confronto con altri soggetti come creator o follower. Grazie.